Il sistema elettorale italiano funziona in parte come un sistema proporzionale e in parte come un sistema maggioritario. L'elettore sceglie il partito che predilige, quello che sente più vicino, però i seggi parlamentari non si distribuiscono in base ai voti ricevuti, perché i partiti formano delle coalizioni con un capo di coalizione e la coalizione che ha più voti prende un premio di maggioranza, che alla Camera consente di avere la maggioranza dei seggi. Al Senato il premio di maggioranza viene conseguito in ogni regione. Perché il Senato è così determinante e se ne parla come di una roulette russa? Perché il premio di maggioranza è assegnato in ogni regione. Allora la cosa che si sta verificando in queste elezioni è che le regioni più popolose, che hanno anche più seggi, sono attualmente in bilico, in particolare la Lombardia e la Sicilia. E cioè in queste regioni le due principali coalizioni possono avere la vittoria. Naturalmente a seconda di come andranno i risultati in queste regioni probabilmente ci sarà una maggioranza al Senato oppure una di tipo diverso. Si parla molto di accordi di desistenza. Che cosa sono? Ecco, per avere seggi in Parlamento bisogna superare una storia di sbaramento, che è alla Camera del 4% e al Senato dell'8%. Ora i partiti che pensano di non raggiungere quel livello, quindi non avranno comunque seggi in Parlamento, possono decidere di non presentare in qualche regione perlomeno la propria lista e in questo modo i loro voti non sono sprecati ma possono favorire la lista che loro ritengono politicamente più vicina. In sintesi, quali sono i principali difetti del sistema elettorale italiano così come è concepito oggi? Direi che fondamentalmente sono due. Uno, che è quello più criticato dagli elettori, è il fatto che non è possibile scegliere il candidato che si preferisce. Si vota unicamente il partito ed è il partito che predispone una lista dei suoi candidati. Il secondo difetto, che essendo il nostro sistema una combinazione del sistema proporzionale e di quello maggioritario, non garantisce né i benefici dell'uno né i benefici dell'altro, perché rispetto al proporzionale la distribuzione dei seggi non è proporzionale, ma rispetto a quello maggioritario che garantisce in generale la governabilità, il nostro sistema non dà questa garanzia perché si può formare una maggioranza di un tipo alla Camera e uno di tipo diverso dal Senato e in questo caso il governo risulta molto difficile. Quanto contano per gli elettori italiani la TV e Internet? Possiamo dire che la televisione resta ancora il mezzo più importante di informazione e forse anche di formazione delle opinioni politiche. E soprattutto questo vale per le generazioni più anziane, per gli elettori meno istruiti in generale e più in generale anche più per le donne che per gli uomini. Però le cose stanno particolarmente cambiando per le giovani generazioni, che danno molto più spazio e più importanza ad Internet. Per gli studenti in particolare, addirittura, Internet sembra contare ormai di più di quanto la televisione può offrire come informazione o opinioni. Grazie. 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 Grazie.